A causa dell'aumento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio di Capaccio Pestum registrato nelle ultime ore, il sindaco in via precauzionale ha appena emanato un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dal 26 febbraio al 6 marzo 2021. Le elezioni continueranno in DAD, lo fa sapere appunto il sindaco Franco Alfieri. L'elevato numero di persone positive ieri hanno fatto salire i contagi a 113, mentre a Sud nel nuovo aggiornamento pervenuto ieri dal comune di Agropoli e dall'Asl figurano due nuovi casi di positività al Covid-19 non riferibili ad ambienti scolastici ed una guarigione. Quindi il dato di positivi attuali ad Agropoli sale a 50, mentre i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia sono pari a 192. A Castellabate invece il numero totale dei positivi rimane 4, mentre i guariti 172. Nel frattempo il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sta valutando la zona rossa. Di comune accordo ha anche il sindaco di Napoli, De Magistris, e nel frattempo le raccomandazioni sono sempre le stesse. Costante uso dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, gel igienizzante e di evitare inutili assembramenti che sono la principale causa del contagio che non diminuisce.